Terry, non puoi continuare a tenere il parco com'era ai tempi di tua nonna. Se saltiamo un altro pagamento, saremo costretti a chiudere. Eh? Cosa? Benvenuti nel regno incantato sopra le nuvole. Eh? E quello che cos'è? È come il parco della nonna. Dove un mago brontolone... È arrivato il broncio! ...rende tristi tutti gli abitanti. E ora diventerete tutti imbronciati! Dagli autori dell'Era Glaciale 2. Io sono la principessa Alba. E tu chi sei? Terry. Terry, il coraggioso! No, solo Terry. Devi trovare la chiave di cristallo. Non c'è altro modo per rompere l'incantesimo! A marzo. Prendetelo! Datti da fare, Terry il coraggioso! Ok. Corre! Un piccolo eroe. Io volevo solo tornare a casa. Non capisco perché non credi nel... E vissero per sempre felici e contenti. Scoprirà che un sorriso... Posso farcela! Beh, forse no. ...può cambiare il mondo. E' arrivato il broncio. Dal primo marzo al cinema. Grazie a tutti.